... Dai che cominciamo, su! E' permesso? Bene. Pensavamo che le cose andassero meglio. Dopo le cure il tumore era regredito. Invece, un mese fa sono arrivate le ultime analisi. Non erano buone. Ragazze, ve lo dico dall'inizio dell'anno. Ormai siete grandi e per fare attività sportiva avete bisogno di un abbigliamento adeguato. Sto parlando del reggiseno. Signor Conte, buongiorno. Buongiorno. Lei aveva chiesto la sveglia alle otto e io sono la sua sveglia. Che ne sai tu? Tu mi sei preso cura di me. Silenziose dietro le quinte. Accurate con gli abiti di scena. Attente! Informa! Lige al copione e all'ordinamento del teatro. O volerà. Lige al copione e all'inizio. La seguida dieles. Lige al confine e all'inizio. La seguida dieles. Lige al copione e all'cons caffeine.